Adesso andremo a fare un curl con manubri, 5 set da 8-10 con solo 40 secondi di recupero. Cercherò di tenere il carico più alto possibile però mantenendo una forma perfetta. Sì, sì, sì. 7 quasi 40 secondi 8 8 8 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 19 19 20 21 22 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26